La prefettura aveva preannunciato una intensificazione dei controlli alla movida e così è stato. Una ventina di uomini fra polizia, municipale e carabinieri hanno setacciato il lungomare di Pesaro nelle serate di venerdì e sabato. È andata bene ma non benissimo. Sembra ancora parecchio in salita la strada per arrivare ad azzerare gli assembramenti e bardare di mascherine la movida cittadina. A vedere il bicchiere mezzo pieno c'è stato però un weekend che non ha replicato un ferragosto bis. Non si è rivisto quel far west di festa in spiaggia musica e balli in barba alle ordinanze comunali poi tracimate nelle accuse del sindaco Ricci a chi non aveva rispettato le regole o a chi non avrebbe adeguatamente vigilato per farle rispettare. Dopo il polverone che ha portato a roventi i comunicati dei sindacati di polizia e alle dimissioni del comandante della municipale Gianni Galdenzi le forze dell'ordine hanno vigilato sul lungomare con presidi di polizia che sono dovuti intervenire in più di un'occasione per disperdere assembramenti soprattutto all'angolo fra viale trieste viale fiume e in lungomare nazario sauro dove le forze dell'ordine hanno creato una barriera d'auto per far defluire la folla ammassatasi all'uscita dei locali. Dopo gli eccessi di ferragosto i locali di sottomonte sono stati invece promossi per buona condotta. Pochi chilometri più a sud invece sono arrivate le multe. A Fano dieci giovani sono stati multati con sanzioni da 400 euro per non aver indossato la mascherina. Anzi in alcuni casi ne erano del tutto sprovvisti. Multe salate che possono essere ridotte a 280 euro se pagate entro cinque giorni ma che la dicono lunga sulla strada scelta dall'amministrazione comunale fanese che ha scelto tutte le misure preventive prima di arrivare alla sanzione pecuniaria. Prima distribuendo gratuitamente le mascherine poi con la polizia locale che da ferragosto in poi ricorda di vieti e limitazioni dell'ordinanza da un altoparlante. Insomma non indossare le mascherine neanche dopo il richiamo al megafono o addirittura non averle nemmeno in tasca diventa un rischio non solo per la salute ma anche per il portafoglio.